Scontro frontale nella notte tra due vetture con il ferimento di sei persone, di cui una in maniera grave. Ad avere la peggio, una ragazza di 12 anni che dopo essere stata ricoverata presso l'ospedale di Polla, è stata trasferita in mattinata all'ospedale Santo Bono di Napoli per le gravi ferite riportate. Tra le sei persone ferite nell'incidente stradale di questa notte anche un bambino di sei anni, seppur fortunatamente in modo lieve. Ferite anche le altre persone coinvolte, in totale sei, di cui cinque di Padula e una di Pertosa. La più grave è proprio la 12enne di origini romene a bordo di una delle auto coinvolte nell'impatto frontale. La ragazzina ha riportato una frattura cranica e dopo un primo e tempestivo intervento da parte dei sanitari del Luigi Curto per stabilizzarne le condizioni attraverso il ricorso all'induzione del coma farmacologico, si è provveduto al trasferimento presso l'ospedale Santo Bono di Napoli. Purtroppo le sue condizioni restano gravi. Il tremendo impatto si è verificato intorno all'una di questa notte nei pressi dello svincolo autostradale di Polla tra due vetture che si sono scontrate frontalmente. Ad intervenire immediatamente sul posto i carabinieri della stazione di Polla e i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di sala Consilina per i rilievi e le verifiche del caso. Inoltre sono stati diversi i mezzi di soccorso sanitario giunti sul posto per soccorrere i feriti con tre ambulanze e il personale sanitario del Luigi Curto. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare, si sta indagando per ricostruire l'esatta dinamica ed accertare eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti.